Buonasera a tutti, chiedo scusa per i due minuti di ritardo ma giusto per il tempo di apparecchiare tutto, casse, musica, altoparlanti, telecamere, per poter al meglio cominciare questa nostra serata di chiusura del nostro viaggio a Versailles, chiedo scusa un attimo, faccio un po' più la lampada, ecco questa sera come avete visto dal titolo sulla mia pagina del post vedete che anche questa sera ci ritroviamo a Versailles per concludere questo viaggio, questa parentesi di visita nella Francia di Luigi XIV in questa corte, la corte di questo Esteta che è stato appunto il re di Borbone e la volta scorsa abbiamo parlato di Lugli, della tragedia di Lyric e di tutta l'impalcatura artistica che questo musicista noto, italiano ovviamente, fiorentino di adozione francese ha saputo portare a Parigi e far apprezzare ecco dalla corte più frequentata e più invidiata del mondo. il periodo abbiamo diciamo concluso il nostro la puntata della volta scorsa con appunto la le tragedie di Lyric e tutta la diciamo la la struttura dell'opera di Lugli e buonasera a tutti voi che arrivate vedo i saluti in diretta e ci siamo lasciati appunto con la figura l'emminente figura di Jean-Baptiste Lugli e questa sera analizzeremo il periodo che va dalla morte di Lugli e alla prima opera di Rameau che è il nostro il nostro momento parigino francese quindi il periodo dicevo che va dalla morte di Lugli alla prima opera di Rameau fu segnato dalla fioritura abbiamo visto anche la volta scorsa della musica da ballo coltivata alla corte parigina che contribuì all'affermazione di un nuovo genere di spettacolo anche eminentemente francese e denominato opera ballet buonasera a tutti saluto in diretta a chi tra i fedeli di questa nostra di questa nostra rubrica a differenza della tragedia Lyric di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata fondata come vi ricordate sull'unità fondata essenzialmente diciamo sull'unità dell'intreccio drammatico l'opera ballet set riunisce tanti episodi diversi autonomi quanti sono gli atti e chiamati i cosiddetti antres tenuamente legati tra loro come l'antico ballet de cour ne abbiamo parlato sempre mercoledì scorso da un tema generale per esempio le stagioni le nazioni gli elementi della natura eccetera e anche se non riuscì a detronizzare il repertorio delle tragedie Lyric di Lugli tale nuova buonasera e tale nuova forma di spettacolo fu accolta con grande favore dal pubblico poiché si serviva essenzialmente di azioni coreografiche deliziose e attraenti nonché di canti facili, fluenti, di stile italianizzante spesso impostati su ritmi di probabile derivazione popolare. Uno dei primi lavori ad inaugurare il nuovo genere operistico fu l'Europe Galante e siamo diciamo a Parigi buonasera continuo a salutare in diretta e Parigi 1697 la Europe Galante di André André Campra uno dei compositori francesi di come dire maggior spicco del periodo che va da Lugli a Rameau. L'opera consiste in quattro and tre, scusate perché ho più telecamere qui che filmano per diverse piattaforme, di quattro and tre dicevo precedute da un prologo che trattano di come si comportano in amore i francesi, gli spagnoli, gli italiani e i turchi. Ai pezzi cantati si alternano danze dell'epoca come i minueti, i rigudon, le gavotte, le ciaccone eccetera e Campra ottiene inoltre grande successo con l'effet venisienne. Siamo diciamo Parigi nel 1710 che si tratta di un'opera ballette conosciuto come le carnaval de Venice e rimasto nel repertorio fino a fine secolo. significativo è anche stato il contributo dato da Rameau, appunto che dicevo è la figura che andremo a conoscere questa sera, che ha dato a questo genere operistico diciamo un valoroso input con l'opera Lesingalant, Parigi 1735 più o meno. Vi do le date anche per farvi capire bene il percorso che stiamo facendo. Siamo partiti da Platone, arriveremo fine ai giorni nostri pian piano. Nel vasto panorama della musica europea del settecento Rameau occupa una posizione senza eguali nella sua duplice natura di dottissimo osservatore analitico direi anche dei fenomeni teoretico musicali e di creatore drammatico e geniale, istintivo. I suoi lavori teatrali furono mantenuti nel repertorio dei teatri parigini addirittura fino alla fine, fino alla caduta dell'anzien regime, mentre la sua opera di teorico influì notevolmente e per lungo tempo sullo sviluppo del pensiero armonico della musica occidentale. Praticamente nessun teorico del suo tempo e di epoche successive che scrisse un testo di armonia potè fare a meno di collegare il proprio lavoro con quanto fu da lui ampliamente teorizzato. Le idee di Rameau sulla, mi alzo perché sono un po' scomoda così altrimenti, scusate, dicevo, le idee di Rameau sulla formazione degli accordi e sulla successione dei loro rapporti, quella che in musica chiamiamo l'arte di modulare, sull'uso della consonanza e della dissonanza, fornirono il punto di partenza ai lavori di numerosi importanti teorici, come per esempio Tartini, Marburg, Fethi e von Helmoz, fino addirittura a Rieman, a Indy e addirittura fino a Paul Indemith, personaggio che vedremo tra qualche tempo. Benché Rameau non avesse proclamato nuove poetiche, chiamiamo così, oriforme dell'opera, le sue creazioni teatrali costituirono una esemplificazione concreta del suo moderno pensiero teorico, ma va notato che queste creazioni non si limitarono ad una funzione, diciamo, di dimostrazione tecnica. Costante, possiamo dire, fu il suo impegno di illuminare e rispecchiare le situazioni e i valori drammatici di un testo teatrale, mediante le illimitate risorse della melodia, armonia, ritmo, timbro-orchestrale. E in questo senso egli anticipò per molti versi gli orientamenti e gli atteggiamenti stilistici generalmente attribuiti agli operisti cosiddetti riformatori francesi e italiani del secolo, diciamo, del Settecento, del secondo Settecento, Gluck in particolare. Praticamente nulla si sa della vita privata di Rameau. Egli fu di carattere severo e scontroso, sempre estremamente riservato, infatti non sembra aver mantenuto rapporti di amicizia con nessuno, quasi che le sole sue passioni fossero la musica e il trionfo delle sue teorie. Lavorò per gran parte della vita come organista a Digione, a Lione, a Clermont-Ferrand e fine a Parigi, ma non ha lasciato alcun pezzo d'organo né manoscritto né a stampa. Fu probabilmente un organista improvvisatore. Egli compose pochissimi brani vocali, sacri e cameristici, nonché 65 pezzi per clavicembalo pubblicati in quattro raccolte. La notorietà di Rameau, buonasera a chi è arrivato per ultimo, la notorietà di Rameau, dicevo, fu legata dapprima alla sua attività di teorico e solo in seguito a quella di compositore d'opera. Dal 1722-1723 si trasferì definitivamente a Parigi, dove fu preso sotto la protezione di Alexandre Jean-Joseph Lariche de la Publinière, ricchissimo mecenate e protettore di artisti e di musicisti e nel 1745 Rameau fu nominato compositore da camera della Corte di Francia. Caso unico nella storia del teatro d'opera, il suo esordio come compositore operista avvenne a 50 anni suonati, esattamente nel 1733. Nei suoi numerosi scritti, dati tutti alle stampe a Parigi dal 1722 al 1762, Rameau fu il primo musicista a teorizzare in maniera razionale e sistematica l'idea che la musica rappresenta un campo ben distinto da tutti gli altri perché governata come la meccanica o l'ottica o la dinamica da leggi fisiche proprie, indipendenti ossia dalla volontà umana. Di conseguenza la musica non rinvia ad altro che a se stessa, non si assoggetta a nessun modello, ad essa estraneo, fuorché alle leggi matematiche naturali, tra virgolette ovviamente, che la governano. Secondo Rameau, compito del musicista è prima di ogni altro quello di conoscerne le regole e come dire i meccanismi per poterla manipolare, così come lo scienziato studia la realtà fisica prima di padroneggiarla. Queste idee rispondono ad un orientamento del pensiero settecentesco, ribelle a qualsiasi autorità intellettuale, fuorché a quello della propria ragione. Sulla scia del metodo filosofico formulato da René Descartes, detto come tutti sappiamo latinamente cartesio, che esaltava la fiducia nelle capacità razionali dell'uomo contro le opinioni precostituite, si volle dare una sistemazione teorica ragionata a tutti i campi della conoscenza e del sapere, dalla scienza alla tecnica, dalle arti all'erudizione. Si coltivò il gusto dell'analisi, che vuol dire ragione, ma anche esperienza, osservazione calcolo, logica e vita, gusto della ricerca anche. Si scoprirono e si prescrissero regole, norme, nomenclature della chimica, da cui potremmo dire in pratica nasce la chimica moderna, abolendo il linguaggio chimico tradizionale. Anche il piacere estetico venne strettamente unito all'autorità della ragione. Si ritenne che esso nascesse dal perfetto incontro tra i moti dell'animo e le leggi della natura. Rameau fu il primo teorico quindi ad elaborare una trattazione organica dell'armonia esclusivamente basata su, più che basata, considerata su basi fisico-acustiche e sulla pratica musicale del tempo. Nella trattazione dei fenomeni armonici i teorici a lui precedenti, se un po' vi ricordate il percorso che abbiamo fatto, avevano trascurato di porre sistematicamente in luce le proprietà delle funzioni e la trama delle attrazioni armoniche, ciò che si chiama armonia funzionale. I numerosi trattati e manuali che prima di allora erano stati scritti sulla pratica per esempio di accompagnamento del basso continuo esaurivano infatti nell'empirismo ogni preoccupazione teorica, limitandosi ad insegnare come combinare correttamente i suoni e come concertare sugli strumenti di base. Nel suo primo lavoro teorico dato alle stampe a Parigi nel 1722, il famosissimo, lo dico nel titolo francese ma traducendolo subito in italiano, il trattato di armonia ridotto ai suoi principi naturali, Rameau osservò che non si dà nessun suono allo stato puro e isolato. Mi spiego, ogni suono è catturato in un reticolo di relazioni che si possono spiegare nel contesto degli accordi e della tonalità. Non si può dire però che Rameau abbia creato la tonalità dal momento che nella pratica musicale del tempo le concatenazioni armoniche avevano già assunto dei corsi ben precisi. L'armonia cioè veniva ben organizzata nella rete della tonalità. Tuttavia egli ha di certo contribuito a darle una base logica e ragionata conferendole una forza che forse non avrebbe potuto avere diversamente. Non è improbabile che Rameau avesse appreso le tecniche della scrittura armonico tonale proprio da Corelli, le cui opere egli stava analizzando mentre preparava il nostro tretè dell'armonia. Punto di partenza della teorizzazione di Rameau sulla formazione degli accordi furono le speculazioni armoniche di Zarlino, di cui abbiamo già parlato nelle precedenti puntate, il quale rielaborò i principi di Pitagora, se ben vi ricordate, sulle consonanze di ottava, di quinta e di quarta, in modo da includervi le consonanze di terza e Rameau sostituì l'antica nozione di consonanza dei suoni a due, il famoso bicordo, con la nozione di un accordo unico, cioè la triade. La triade, come sapete, è un accordo formato da tre note e dimostrando che le leggi naturali fisico-acustiche non forniscono se non un solo esempio, cioè l'accordo perfetto nelle due forme di maggiore e minore. Questo accordo, formato da terze sovrapposte, adesso vi faccio vedere proprio sul pianoforte anche la struttura, giro subito il, ecco, vedete? questa è una triade, tre note sovrapposte a distanza di terza, do, re, mi, mi fa, sol. Quindi questa è una triade a distanza di terza, dicevo. Quindi, questo accordo, come vi dicevo, formato da terze sovrapposte, come vi stavo spiegando appunto, eccole qua, è costituito, è costruito, diciamo, su un suono unico che Rameau definiva son fondamental, cioè suono fondamentale. Poiché, nel caso dell'accordo di do maggiore, vedete, do, mi, sol, l'accordo fondamentale sarà il do, perché? Si chiama suono fondamentale in musica quello sul quale tutti gli altri sono costruiti, sono ottenuti a distanza di una terza. Quindi, se io vi do un accordo di do maggiore, da do, do, re, mi, mi fa, sol. Vedete, ci sono due terze. Se io facessi mi, sol, do, come potete vedere, il mi non può essere la nota fondamentale di questo accordo, perché mi fa sol e una terza, ma sol, do non è una terza, è una quarta. Ok? Quindi, il suono fondamentale, diciamo, di un accordo si ricava dalla distanza di costruzione dei vari gradi a distanza di terza. Quindi, poiché i suoni provengono tutti dal medesimo suono fondamentale, come vi dicevo, l'accordo mantiene tutta la sua identità e funzione, anche se rivoltato, ossia se le stesse note, come in questo caso, sono messe in ordine differente, come in questo caso, do, mi, sol, ad esempio, non è accordo differente nelle sue funzioni da mi, sol, do. È sempre un accordo di do maggiore, ovviamente, ma con il rivolto, cioè, si parte da un altro grado dell'accordo, in questo caso da mi. Fra tutti gli accordi e i loro rivolti si stabilisce così, come avete visto, un legame di unità, poiché una successione di armonie è regolata dalla presenza reale o sottintesa, diciamo così, di un basso generatore, che egli chiama basse fondamentale, cioè basso fondamentale. Nel trattato Generation Harmonique, cioè Generazione Armonica Parigi 1737, Rameau dimostra che il suo suono fondamentale, come in questo caso nel nostro esempio il do, coincide con il suono generatore di una serie di armonici naturali, scoperti nel 1701 da Joseph Sauvert, nel fenomeno fisico della risonanza acustica, detto anche dell'oscillazione simpatica. Avviene cioè quando due corpi sonori vicini sono in grado di vibrare con la stessa frequenza, il secondo viene influenzato dal primo per simpatia senza che ne sia direttamente eccitato. Rameau definì, scusate, ecco mi sono sistemata, Rameau definì, dando neanche un nome, i tre accordi di tonica e sottodominante e dominante come i pilastri, allora la tonica è il primo grado della scala, cerco di farmi capire se la scala per esempio do, la scala di do maggiore, la tonica è il primo grado della scala, quindi la prima nota, il do. La sottodominante è il quarto grado, quindi della scala, quindi nel caso di do maggiore e fa, do, re, mi, fa, il quarto grado, la dominante è il quinto grado, in questo caso il sol. Quindi definisce i tre accordi di tonica, sottodominante e dominante come i pilastri del discorso tonale e in relazione ad essi pose tutti gli altri accordi. Egli inoltre introdusse nella terminologia armonica la denominazione delle combinazioni di settima diminuita, per esempio, vi faccio subito un esempio pratico sul pianoforte, quantomeno per allenare l'orecchio, i musicisti sanno di che cosa sto parlando, settima diminuita, dove, cioè praticamente sull'accordo di do, sulla triade di do maggiore, vedete, ad una distanza di terza c'è il settimo grado abbassato di un semitono. Se fosse una settima, vedete, naturale, chiamiamola così, il si sarebbe naturale, perché sappiamo che senza alterazioni nella scala di do maggiore non abbiamo alterazioni di alcun tipo, la settima di dominante, la settima diminuita, lo dice appunto il nome, perché il settimo grado della scala è diminuito di mezzo to, in questo caso il si bemolle. Settima diminuita di nona, di undicesima, dicevamo, no? Le cose stabilite da Rameau, giustificandone l'uso per allargare e ampliare l'area della dissonanza. La modulazione avviene col mutamento della funzione armonico-tonale degli accordi di base, di tonica, sotto dominante e dominante. Nel Treté dell'Armonie, e precisamente l'intero capitolo 2, chiunque di voi volesse approfondire, Rameau definisce chiaramente l'uso della consonanza e della dissonanza e delinea una sua teoria degli affetti in base alla quale la gioia e la magnificenza richiedono consonanze o dissonanze preparate, mentre la disperazione e il furore vogliono dissonanze non preparate. Cosa voglio dire con questo? Le dissonanze preparate implicano una sensazione riposante nell'orecchio, quindi gradevole, mentre invece quando una dissonanza non è preparata, come le usava Gesualdo per dirci, si ha una sorta di crudità, chiamiamola così, a livello di ascolto, una cosa che ci prende alla sprovvista, non ce l'aspettavamo. Questa vuol dire mancanza di preparazione. Nella Demonstration du principe dell'armonie, cioè dimostrazione del principio dell'armonia, egli dimostrò come l'espressione musicale possa nascere dai reciproci rapporti tra le diverse tonalità e stabilì una sorta di tabella di equivalenza tra affetti e modi tonali. Per Ramò, pertanto, l'armonia non è una mera questione tecnica, bensì la prima manifestazione concreta del pensiero musicale, il più potente mezzo di espressione musicale. Essa infatti può dar voce alle passioni e rispecchiare il senso di un testo drammatico. Siccome la melodia dipende essa stessa dagli accordi, in maniera evidente o implicita, egli giunge alla conclusione che è l'armonia a dar vita alla melodia. È con Ramò, pertanto, che ha inizio il ciclo storico, dominato dall'armonia e dall'affermazione dell'interesse per taluni, evidenti elementi vitali della grammatica e della sintassi tonale, come le cadenze, cose che vedremo poi con Mozart, con Bach, le cadenze, le modulazioni, la polarizzazione di tonica dominante. Senza l'armonia ogni decorso musicale apparirà, come vedremo, d'ora in avanti, indefinibile. La musica si ridurrebbe e si ridurrà, come vedremo, tra qualche secolo, a mero rumore. La pubblicazione del Treté dell'Armonie ebbe subito in Francia notevole risonanza, suscitando sia lodi entusiastiche quanto critiche negative. Anche le composizioni teatrali di Ramò furono al centro di ogni polemica nell'accesso e passionale clima delle quereille, le cosiddette dispute di cui abbiamo già parlato, che dominò, come vi ricordate, la vita musicale parigina verso la metà del Settecento. Dai seguaci di lui, egli fu dapprima accusato di italianismo, per l'uso frequente degli accordi di settima diminuita, ve l'ho fatto vedere, per lo schema tripartito anche della sinfonia d'opera all'italiano, che adotta per esempio nella Princesse de Navarre e nei suoi ultimi lavori teatrali è per l'inserimento di certi vocalizzi nelle aree solistiche ritenuti estrane alla tradizione degli air francesi. Non mancano in effetti nelle opere di Ramò brani vocali solistici che corrispondono a quelle che nelle opere italiane sono le aree di bravura. Tagliarie denominate ariette sono per la maggior parte composte nelle forme consuete col da capo, cioè nello schema ABA, dove A chiaramente è la ripetizione del primo pezzo, o bipartite, cioè A e B, e costituiscono la principale differenza stilistica tra le opere di Ramò e quelle di Lugli. Allorché l'eccezionale successo, siamo nell'agosto del 1752, dell'intermezzo comico La serva padrona di Pergolesi scatenò a Parigi la cosiddetta Quereille ou Guerre de Buffon, disputa dei cantanti comici, tra i fautori dell'opera italiana e i sostenitori della tragedie lyrique francese, Ramò si schiarò con il partito dei francesi. Si guardò pertanto a lui come all'autentico rappresentante della tradizione operistica francese. Dai filosofi dell'Encyclopedie, cioè il monumentale dizionario pubblicato in 28 volumi tra il 1751 e il 1772, simpatizzanti dell'opera italiana, la musica di Ramò fu accusata di eccessiva complessità, gravità e rigidezza, soprattutto della scrittura armonica. Dell'opera italiana gli studiosi di allora ammiravano la semplicità, scorrevolezza e naturalezza dello stile musicale. Ramò non partecipò personalmente alla contesa, ma difese il suo sistema armonico pubblicando lo scritto polemico Errors sulla musique dans l'Encyclopedie, cioè errori sulla musica nell'Encyclopedia. Partigiano appassionato dei nuovi ideali naturalistici dell'opera comica italiana fu soprattutto Jean-Jacques Rousseau, il quale nella Lettre sulla musique française, cioè Lettera sulla musica francese, sostenne che la musica francese non era estrinsecamente adatta al canto. A suo vedere la musica francese è caratterizzata da un interesse predominante per la dovizia armonica che carezza l'orecchio ma non sa toccare l'animo. Sempre secondo Rousseau la musica commuove soltanto quando riesce ad esprimere le passioni mediante un'espressione melodica la più aderente possibile ad un testo poetico. L'armonia deve pertanto accettare un ruolo subalterno rispetto alla melodia. Giunge pertanto alla conclusione di una superiorità della musica italiana dovuta alla qualità melodiosa della lingua. Per Rameau invece la musica può fare ben altro che esprimere diciamo un testo può illustrare il senso di un testo ma anche spingersi diciamo di spiegarsi più che spingersi in tutta la sua autonomia perché obbedisce a leggi naturali proprie e perché ha oggettività assoluta. Secondo Rameau non sempre l'importante è il contenuto del testo quanto piuttosto la sua forma. Ecco perché il compositore deve avere rispetto per la prosodia e la metrica nonché per la resa sonora delle parole. Per quanto riguarda il rapporto tra musica e testo la posizione di Rameau si contrappone dunque alle tesi di Rousseau come abbiamo potuto capire e anche a quelle dei seguaci di Lugli i quali miravano a subordinare anzi ad assoggettare la musica al testo. Rameau compose parecchi lavori scenici nei diversi generi della tradizione operistica francese ossia opera ballet, commédie ballet, acte de ballet, divertissement di cui abbiamo già parlato ma il suo genio di drammaturgo si palestra specialmente nelle cinque tragedie lyrique buonasera a tutti quelli che si stanno aggiungendo adesso al nostro simposio chiamiamolo così tutte rappresentate per la prima volta a Parigi che si imposero presso i contemporanei e presso i compositori a lui successivi per il vigore di immaginazione e i molti momenti di altissima intensità tragica che vi si presentano. Faccio alcuni nomi ovviamente di opere chi di voi volesse sentire anche se tra poco sentiremo qualche piccolo estratto. Ipolite d'Arisi, Castoret Pollux, Dardanus, Zoroastr e Abari o Leboroad composte nel 1700, composta quest'ultima nel 1764 e non eseguita. In questi lavori Rameau si conforma fondamentalmente al modello di tragedie lyrique proposto come sappiamo da Lugli. I cinque atti che sono preceduti dall'obbligatorio prologo sono ricolmi di azioni spettacolari, abbiamo visto un esempio lo scorso mercoledì, con copiosissime occasioni offerte ai balletti, ai divertissement, agli interludi orchestrali, con movimenti di masse, scene pastorali, combattimenti, scene rituali e mirifiche. Ingrediente essenziale del discorso musicale è il recitativo, ma numerosi sono i pretesti che si presentano per lo sfoggio di cori, airs, pezzi vocali d'insieme e danze composte su forme fisse come le gavotte, i minuetti, i rigodun, eccetera. Entro questo sistema di convenzioni drammaturgiche Rameau si impose per il carattere prettamente armonico della sua invenzione musicale, il vivo senso del timbro orchestrale, la flessibilità della linea melodica. Il talento creativo di Rameau si manifesta soprattutto nelle scene in cui domina il senso della solennità e nei momenti volti ad esprimere sentimenti patetici molto intensi. Nei recitativi Rameau mira essenzialmente, come Lugli, a rispettare la prosodia del testo poetico, variando con frequenza il metro per accordare la melodia con il ritmo delle parole. La linea melodica è però caratterizzata da una maggiore cantabilità rispetto a Lugli. Vi è la tendenza cioè ad arricchirla di abbellimenti e note accessorie, nonché ad usare intervalli più ampi, fa cui la sesta maggiore e minore e la settima discendente maggiore e diminuita. Le frasi minori, diciamo più che definirle maggiore o minori, le frasi melodiche, chiamiamole così, non raramente seguono un andamento triadico. Fatto questo che mette in risalto le radici armoniche della melodia di Rameau. In tutte le sue opere particolare importanza riveste il recitativo accompagnato, che egli riserva soprattutto ai momenti di grande solennità e di pathos intenso, presso a poco come il recitativo accompagnato nell'opera italiana. Rameau usa il mezzo armonico per scopi altamente espressivi. Le armonie sono per lo più diatoniche e la funzione di ciascun accordo è sempre chiaramente definita all'interno del sistema tonale maggiore e minore. Talora egli sperimenta l'uso di vari accordi di settima, occasionalmente di nona, e perviene a tonalità lontanissime mediante inconsueti giri modulanti, valendosi anche di cambiamenti enarmonici. Nella parte centrale, per esempio, del trio delle parche, che ora vi farò ascoltare, tratta dall'opera Ippolite da Rissi, egli ricorre, come sentiremo, per sottolineare il senso delle parole, ad una serie di progressioni cromatiche discendenti che passano rapidamente attraverso cinque tonalità, per dire, prima di ritornare alla dominante di sol minore. La sentiamo, la preparo subito qui sul computer in modo tale che apprezzate, possiate apprezzare anche sia la scena, che è molto importante, sia quello che sto dicendo. Argomenteremo poi successivamente tutto il resto. Lo metto a schermo intero in modo che possiate gustare anche la scena. Vi presento quindi allora il trio delle parche, non so se riuscite a vederlo così, il trio delle parche tratto da Ippolite e da Rissi. Grazie. 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 E basta. Ok. Allora avete sentito chiaramente quelle belle escalation, diciamo, verso il basso a livello armonico? Avete sentito le cinque tonalità toccate nel giro di poco? Per concretizzare quello che vi dicevo prima nel code de musique pratique cioè codice di musica pratica egli scrisse riferito appunto a questo trio delle parche che l'uso di tali incastri enarmonici era finalizzato a dare l'immagine dello spavento e dell'orrore come avete visto infatti c'erano i sottotitoli in francese chi sapesse anche un po di francese e c'era scritto proprio tremble fremide froi che vuol dire appunto trema fremi di affanno quindi rimanendo fedele alla tradizione dell'opera francese rameau come avete visto conferisce al coro un ruolo di particolare rievo ed è spesso protagonista partecipando attivamente all'azione drammatica in particolare come in questo caso nei momenti di alta intensità tragica rameau tratta il timbro strumentale come avete un po avuto modo di sentire con grande originalità e sempre in intimo accordo con i valori rappresentativi ed espressivi della vicenda scenica le sue capacità inventive si rivelano soprattutto nell'intreccio di timbri strumentali diversi che si amalgamano e si rispondono a vicenda egli dimostra particolare sensibilità nello sfruttamento delle risorse timbriche degli strumenti affiato fu il primo per esempio in francia ad introdurre il clarinetto in una partitura teatrale esattamente nell'opera zoroastre non più adibiti al semplice raddoppio degli archi il talento di rameau orchestratore si dispiega soprattutto nei pezzi puramente strumentali per esempio le overture e le symphonies che accompagnano i passi di danza o che si alternano a brani vocali molto più numerose che nelle opere dei suoi predecessori sono le sinfonie con evidenti funzioni descrittive in particolare rameau mostra la sua superiorità sui compositori a lui precedenti lui ed altri nel rappresentare vividamente per mezzo del timbro orchestrale i fenomeni più terrificanti o gli aspetti più amabili della natura per esempio il tuono sempre nell'opera ipolite da risì o in zoroastre oppure la tempesta di mare in les indigalants o il sorgere del sole sempre in zoroastre il canto degli uccelli in ipolite da risì a rameau va anche il merito di essere stato tra i primi compositori se non il primo ad allargare il campo espressivo dell'ouverture che cessa di essere una semplice introduzione strumentale per legarsi con il resto dell'opera già l'ouverture che adesso sentiremo della sua prima opera cioè sempre ipolite da risì contiene riferimenti tematici con il primo coro del prologo adesso ve lo faccio sentire anche per anche che ci stiamo avviando alla conclusione e sì l'ouverture di ipolite e da risì sentiamola poi la cominciamo grazie a tutti 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 grazie a tutti